Salve a tutti cari amici di The Abusive Game e di World of Wrestling.it Amici ma soprattutto amiche di The Abusive Game e di World of Wrestling.it Tino via, tino via! E spaventati e spaventate di The Abusive Game e di World of Wrestling.it Qui è l'artevice, Jake in compagnia Sono specialista, Michel Ed è remita a Peppino, vandalo via E vediamo il benvenuto in questo primo dei due JMP pregiovi Fastlane Oggi è mercoledì e quindi Facciamo gli auguri a quell'uomo qui Sì, che ieri ha compiuto gli anni Uri uri diventi vecchio Ieri, grazie, grazie Noi ci capiamo noi soli con un gioco di sguardi Tino via, tino via Ma quest'anno non sono contento di compiere gli anni Non so perché Ma io tutti gli anni sono contento di compiere Perché se no li compio No, io quest'anno no Vabbè ragazzi, oggi pre-show di Fastlane Il primo è questo che vedete Perché è Fastlane? Roman Reigns è una foto di Pugliese Mi piace di più Fastlane Vabbè che sei in clima festeggiato però Allora Fastlane è più bello ancora In lingua inglese è Fastlane No, è Fastlane Perché è Fastlane È Fastlane È Fastlane Braun Strowman o Braun Strowman? Braun perché non è scritto marrone Anche secondo me è Braun Non è scritto marrone Dipende come lo scrivono Se lo scrivono bianco è perché lo sfondo è Ma è sempre stato così brutto lui? No, è peggiore ogni volta E quindi Andiamo a vedere questo match oggi Purtroppo ci tocca No diciamo che Fastlane propone questi match Preferivamo fare altro Tipo andare alla Leda A farci due risate ma O giocare al VAR A giochi paurosi Non spoilerare niente Che arriverà Allora Volevo Prima dire Ovviamente il calendario della settimana Ah va a dirlo Domani arriverà il secondo E ultimo GMP pre-show Non ci sarà la Buzzi Menia Questa settimana Ovviamente perché appunto C'è il secondo pre-show E poi sabato e domenica La GM mode E poi? Poi domenica sera Non ci sarà la live Pre-Fastlane Fastlane Fastlane ok Se mi avete corretto Eeeh E cosa per prima E ci sarà qualcosa di sorpresa E ci sarà qualcosa di sorpresa Vabbè forse adesso vedremo Forse no no Sorpresa E che cacchio Probabilmente non qui su Ah Su YouTube Ma sulla pagina Facebook Allora andate su Facebook Qualche Qualche Non che sulla pagina Twitter E sull'account di Instagram In qualche modo Arriverà Anche andate a vedere Perché C'è da ridere Allora Da ridere Quel momento lì Poco da ridere Però Eh vabbè Questa qui possiamo evitare Di guardarla Perché Vabbè perché Quella di Roma Arrisi era bella L'abbiamo guardata Per conto mio Potevamo evitare Di guardare tutto il match Facciamo una precisazione Di default Il buon Braun Strowman E' vero Non l'ho letto Che era Di Aveva un totale Di 78 Ragazzi Ma vi pare Contro lui Che era 89 Mi son permesso Di andare a modificare L'overall Perché 78 Era veramente Veramente In guardare Quindi L'abbiamo portato A 90 Secondi Io e Pepe 90 Secondi Avevamo proposto Di abbassare Roman Reigns Ma non ci ha ascoltato Ma non ci ha ascoltato 89 E' già basso Per Roman Reigns Non è basso Dai Per Roman Reigns Per come lo 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 Utilizzano Come lo stanno Gestendo 89 E' basso Contando Che Kevin Owens Ha un 88 Infatti Anche a quello Siamo andati a alzarlo Contando sotto la pioggia Tra l'altro Già che eravamo Dietro a modificare Già che eravamo Già che stavamo modificando Gli overall L'abbiamo modificato Anche quello di Kevin Owens Che era molto basso E lo abbiamo portato E lo abbiamo portato a 90 Forse anche lui No Quanto era? 88 Ah beh Sì secondo me L'abbiamo portato a 90 Vabbè ragazzi Arriviamo al pronostico Di questo match Una faida Sufficiente No Appena sufficiente Appena Proprio non è Io mi trovo Mi trovo costretto Anche questo pay per view A non aspettarmi nulla Sarà Se sarà un bel pay per view Sarà una piacevole sorpresa Anche il poll pronostico Sono abbastanza indeciso Cioè Il nostro Braun Strowman In rampa di lancio Nonostante abbia perso Roman Reigns Lunedì scorso Sì Si è stato attaccato In malo modo Noi non abbiamo ancora visto La puntata di Raw Che voi avrete già visto Ma che noi Andrà in onda Tra qualche ora Esatto Noi ci stiamo riferendo Alla puntata Boh Io vado Secondo me Sul mio personalissimo sicuro Braun Strowman Stavolta Magari Roman Reigns Avrà la sua rivisita Avresta il menio Mi sta piacendo Veramente Veramente tanto Questo Braun Strowman Gli è riuscito a battere Biccio Si lo sta distruggendo Non può fare queste mosse Braun Strowman Adesso finalmente No Roman Reigns Stai dicendo Hai detto Braun Strowman No Non può fare questo A Braun Strowman Ah ok Ma fai alzarlo In quel modo lì Te l'ho detto Dovevi abbassare Roman Reigns Dai non esiste Che fa la power bomba Braun Strowman Roman Reigns Ma dai E qui però Si becca un suplex Dalla seconda corda E stavo dicendo Mi è piaciuto parecchio È riuscito a vincere Contro Biccio In un match Più che sufficiente E la cosa E la cosa che mi ha impressionato E la cosa che mi ha impressionato di più È che una volta battuto Biccio È riuscito ancora a mettere A stendere Roman Reigns Che era intervenuto Sono rimasto stupito E questo però Mi fa pensare Che al pay per view Roman Reigns Avrà la meglio Ma nonostante questo Io vado Col mio pronostico E Dico Braun Strowman Peppino Ma anche solo tu Io vorrei Dire Braun Strowman Ma C'è quell'incognita Qua Che Roman Reigns Mi fa un po' Pensare Ma invece magari Nella puntata Che andrà in onda Tra poco Roman Reigns Demolisce Braun Strowman Vince Braun Strowman Basta È vero anche quello Perché quella Che abbiamo visto noi Era la penultima Di puntata Quindi È tutto da vedere Anche Questo Questo ultimo Rò Prima di Fastlane E adesso C'è Incavolato Braun Strowman Ci ha sorpreso Anche con Un'immensa Agilità Questo Braun Strowman Contro Big Show Ci sta Si sta Veramente impegnando Non è stato brutto Come match Io però Non avrei messo Come main event L'ho visto Ma ragazzi Stavo dicendo Che Quell'uomo qua Riuscire a fare Due body slam In quel modo A Big Show E che Big Show Non è abituato A prendere body slam Perché E nessuno riesce a fargliele E lui Mamma mia Si poi L'ultima Ha fatto fatica Guarda il paletto Però Complimenti a Braun Strowman Neckbreaker Di Roman Reigns Potrebbe anche finire In no contest Non abbiamo Non abbiamo Non abbiamo Non abbiamo Non abbiamo Non abbiamo Vincere Ma secondo voi Questa faida Comunque proseguirà No C'è anche C'è anche La probabilità Di un intervento A sorpresa Di The Undertaker Ragazzi Ricordiamo Che Braun Strowman Ha eliminato L'Undertaker L'Undertaker Ha detto Non è finita qua E' vero Quindi E' molto probabile Anche un po' Per Dare Quella Quella Stella in più Allo show Già che Siamo in tema Al GM Magari Un colpo di scena Con The Undertaker Che interviene Distrae Roman Reigns E vince Braun Strowman In modo così Che Braun Strowman Concludi la faida E Roman Reigns Inizia la faida Con The Undertaker Cioè Tu vorresti farmi Credere che sarebbe Possibile Avare Stelmania Un match a tre Loro due Undertaker No no Ho detto Scusa Undertaker Dovrebbe avere la faida Con Strowman Cos'è entra A far vincere Roman Reigns Perché con Strowman Perché non è stato Hai detto Strowman tu all'inizio No Eh Hai sbagliato Gli voleva dire Roman Reigns Ha eliminato Allora Ah mi sono confuso Scusatemi No Roman Reigns Lo sai bene Che te Ha eliminato Undertaker Alla Royal Rumble Quindi È possibile Molto possibile Molto probabile Che Undertaker Si faccia vivo In modo da iniziare Poi la road Allora È una faida inutile Un riempitivo Di qualche settimana Beh ovviamente Ah sai che invece Ripensandoci Il match a tre Vorrebbe dire La sopravvivenza Dall'Undertaker Che per buona parte Del match Non farà nulla E poi vincerà Schienando uno dei due Io credo invece Che il match a tre Non si farà Così Braun Strowman Vincerà No l'ho detto Solo perché Tu hai detto Che potrebbe intervenire Si lo so Ma non ha senso Metterci anche Braun Strowman E chi lo sa Cioè L'Undertaker Non ha fatto niente Non fa niente a Braun Strowman Qua la spia ragazzi Lo ha steso Eh però Sta lì Si guarda un po' Troppo Attorno Adesso lo trascina Ma Ha perso tempo L'arbitro perde tempo Già di suo Uno Due E infatti Si libera Quindi c'è un'alta probabilità Che arrivi L'Undertaker Magari basterebbe anche Il rintocco Lo spegnimento Delle luci Per far distrarre Roman Reigns E Braun Strowman Ne approfitta Ma Non penso Tenta Di sottometterlo Ma si libera subito Un'agilità Disarmante Però lo ha steso Con questo braccio Siamo andati a aumentare Troppo l'agilità Uno Due Due Solo conto di due Pubblico invisibilio Solo nel gioco Tra l'altro Sono fiducioso Potrebbe uscire un bel match Ah Questo Io lo sono molto meno No Devo dire che Braun Strowman Mi sta Mi sta piacendo parecchio Il Braun Strowman Ma non quell'altro Cosa fa Vabbè comunque La si lancia contro le corde Comunque Roma Rings È forte fisicamente C'ha tanta potenza C'ha tanta potenza Quindi potrebbe 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 comunque Tenere di testa A Braun Strowman E chiamo anche alla finisher Adesso Forse è quella vecchia Ragazzi Di finisher No Questa è la sottomissione Che non l'ha più fatta Ma ovviamente Il gioco Non aggiornando mai nulla Eh purtroppo Dovremmo noi Noi Aggiornare le mosse Magari la prossima volta Ragazzi Se mi ricordo Eh sarebbe meglio Braun Strowman vince La battle royale Ragazzi La battle royale Quale? La battle royale In memoria di Andre Dejan Chi deve vincere? Ma sia la battle royale Al match Non può farla La battle royale Non ha ancora nessun match La battle royale Secondo me È più probabile Che abbia un match Probabilmente non l'avrà Ma invece per me sì No io non vedo Nessun suo Se l'avrà Perché la battle royale Dovrà vincere ancora Corby Però è sprecato No Corby Andrà contro Di Nembrose Un match per il titolo Intercontinental È sprecato Braun Strowman Nel kick off Di Preston Meno Purtroppo Non puoi farli lottare tutti Ascolta Non puoi farli lottare tutti Perché chi hai Da mettere dentro Scusa Chi hai? Hai visto le nostre Card di Abusivo Ma le nostre Un'altra cosa Ma quello che fanno Realmente loro dopo Ho capito Ma lo show Dovrebbe durare anche Non tantissimo Perché se ne metti Ma che resta in mania Si lo so Però Quattro ore Quattro ore E proprio sei Il tirato Cioè Devono comunque Stringere 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 Quattro ore Ne hai di roba A sottometere A sottometere Roman Reigns Niente da fare Ah si Lo ha spinto via Eh dai È abbastanza equilibrato Con il match Adesso tenta Lo schienamento Ma credo Ci vuole ben altro Per riuscire a schienare Roma Reigns La sua resistenza È molto nota No Niente da fare Superman pancia Dal nulla Attenzione Buonanotte suonatori Due E tre Non ci credo È incredibile Anche qua vince lui Dal nulla Ha subito tutto il match Dal nulla Un pugno No Insomma Ha subito tutto il match No La maggior parte Della match L'ha fatto il trome Però Io sono convinto Che Roma Reigns Perderà Speriamo tutti Che perderà E l'Undertaker Probabilmente Si farà vedere Quello Mi sa di no Però Altrimenti Cioè Sono Tutte e due Due wrestler In rampa di lancio Uno Ha appena iniziato Uno ha appena iniziato E l'altro È sulla rampa Da L'altro Dovrebbe essere Sul viale Del tramonto Si Quello Si Però Sono decisi L'altro È da un po' Che è sulla rampa Se non ha capito In che direzione È quella rampa Lì Vai a casa Si Sicuramente Sarei Più contento Se Braun Strowman Vince Pulito Vincesse E Vincerà Pulito Deve Vincere Pulito Quindi Anche perché Una vittoria Sporca A Braun Strowman Non è che Gioverebbe Sulla rampa Di lancio Vuol dire Mandarlo in giù Eh Gio Ma Adesso Non è che perde E ho capito Ma se perde Sporco Se devi mostrare Che sei in rampa Di lancio E dimostrare Quanto vali Devi vincere Pulito Allora Si Può andare avanti Perché se no Ma Dirci voi Cosa ne pensate Qui in alto a destra C'è il sondaggio Per 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 voi Ragazzi Decidere Secondo voi Chi vincerà Il Il Match Non abbiamo detto Tutti E Tre Braun Strowman Eh già Ok Quindi per oggi è tutto Io vi ricordo come sempre Di lasciare un voto a questo video Di iscrivervi al canale Sempre si vai Se non l'avete ancora fatto Io vi ricordo Come la novità del 2017 Sia stata Per gli abusive game L'iscrizione al canale social Di Instagram Unitamente Al classico Facebook E al classico Twitter Qualsiasi modo Che ci vogliate contattare Fatelo E vi risponderemo Con piacere Io vi ricordo Di non perdervi Appunto Questa cosa Che Vi ha ricordato lui Di restare collegati Ai social Perché potrebbe arrivare Una sorpresina Molto divertente Soprattutto per lui Quindi per oggi è tutto Dall'artefice Jack Dallo specialista Michel E dall'eremita Peppino Alla prossima Ciao Mandala via Ciao Ciao Grazie a tutti.